Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio ed oggi parleremo delle copertine di Serena Riglietti. Ma prima di cominciare vi ricordo come sempre che su Pampling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete sempre un paio di calzini in omaggio con qualsiasi acquisto e il codice accumulabile con tutte le iniziative in corso di Pampling. Trovate anche il link alla mia vetrina Amazon con tutti i prodotti selezionati da me e poi tutti i vari link utili relativi a questo video, sempre in infobox. Mi raccomando, seguitemi su Instagram Antonio.seria Detto questo, cominciamo. Come vi ho detto già diverse volte, quest'estate, lo scorso Etna Comics, ho realizzato una mostra a tema Harry Potter, dove ho messo in esposizione la mia collezione, in concomitanza alle opere originali di Serena Riglietti. Quindi ho avuto modo di passare del tempo con lei, di ascoltare tante cose che aveva da raccontare e prima che queste cose finiscano nel dimenticatoio del mio cervello, voglio fissarle su pellicola, diciamo così, e metterle su YouTube a disposizione di tutti. E quindi direi di cominciare immediatamente con queste piccole curiosità relative alle copertine di Harry Potter. Io comincerei dal primo, che è questo qui, Harry Potter e la pietra filosofale, che in questo caso ha la copertina autografata da Serena Riglietti, ma anche al suo interno è firmato, l'ho fatto firmare dentro e fuori, e vi parlo di questa copertina qui, soprattutto del famoso senza occhiali, perché gli abbiamo fatto diverse domande relative a questo famoso libro senza occhiali. La prima cosa che dovete sapere è che non si sa esattamente quante copie esistano di Harry Potter, prima stampa senza occhiali, perché la tiratura totale era di 10.000 copie della pietra filosofale prima stampa, ma solo una parte, verosimilmente la metà, ma non c'è sicurezza, quindi tenete conto, circa 5.000 di questi libri vennero venduti con la copertina senza occhiali, e invece l'altra parte venne, diciamo, sistemata, venne tolta la copertina senza occhiali e messa quella corretta con gli occhiali. Quindi esistono delle prime stampe di Harry Potter e la pietra filosofale con gli occhiali, perché la copertina è stata modificata, e quindi soltanto una parte è stata venduta senza occhiali. Detto questo, perché non ha messo gli occhiali Serena Riglietti a Harry? Bene, non è stata propriamente una svista, perché quando ha ricevuto la telefonata dove le comunicavano che doveva appunto fare la copertina per questo libro, Harry Potter e la pietra filosofale, e che probabilmente questo libro sarebbe diventato abbastanza famoso, le venne detto solamente che si trattava di un bambino di 11 anni che avrebbe frequentato una scuola di magia e che poteva portare con sé un animale tra un ufo e un topo e che sarebbe stata importante una partita a scacchi alla fine del libro. Lei sapeva solo questo, quindi nessuno le aveva detto degli occhiali, ma neanche della cicatrice. E infatti nella prima bozza, nel primo disegno, quello che lei inviò, lei si trovava a Catania, era un capodanno, si trovava proprio a Catania, infatti ci ha raccontato che le ha fatto molto piacere questa mostra a Catania, perché da lì è cominciato tutto. Appunto lei andò a comprare di corsa tutto il materiale per disegnare, perché essendo in vacanza non aveva nulla, si chiuse nella sua camera di hotel e disegnò appunto la prima famosa copertina, senza occhiali e senza cicatrice. La cicatrice venne aggiunta successivamente, prima che andassi in stampa, quindi la cicatrice è presente nel famoso senza occhiali, è stata aggiunta dopo, e poi invece successivamente venne aggiunto anche il paio di occhiali. E quindi non fu una vera e propria svista, ma semplicemente lei aveva quelle poche informazioni, quindi doveva scegliere tra un topo e un gufo, e lei scelse il topo, perché non sapeva appunto quale dei due animali avesse scelto Harry, e quindi puntò tutto sul topo, ed è per questo che troviamo questo topo gigante qui accanto ad Harry, e questo cappello appunto un po' da mago, che va sempre a riprendere la testa di topo, e poi ovviamente troviamo questi scacchi magici, quindi questa famosa partita scacchi. Questi erano tutti gli elementi a sua disposizione che lei ha sfruttato per realizzare questa copertina. Quindi topo, bambino di undici anni, scacchi. Ed ecco che abbiamo la copertina di Harry Potter e la pietra filosofale. Detto questo, in questo libro è una delle poche volte dove vediamo Harry frontalmente, per intero, in volto, perché ci ha raccontato che poi le è stato richiesto di non mostrare più in modo esplicito Harry in volto, perché con l'uscita imminente dei film, e appunto visto che i libri ancora non erano tutti usciti, e che sarebbero arrivati man mano gli altri film, non volevano che l'immagine di Harry in Italia, quindi il volto di Harry in Italia, fosse associato a quello dei libri e poi non riconosciuto nei film. E quindi, come possiamo vedere nella camera dei segreti, ad esempio, abbiamo Harry di spalle, non vediamo Harry in volto, e in testa ha un cappello con il basilisco questa volta. E invece, nel terzo volume troviamo sempre Harry, qui che vola col suo ipogrifo, Harry con Sirius Black, ma anche in questo caso Harry non ha un volto, Harry è girato tre quarti, si vedono gli occhiali, ma non si vede la faccia, non si vedono gli occhi, non si vede il naso, non si vede la bocca. Anche in questo caso Harry è completamente nascosto. Stessa cosa per il quarto libro, il calice di fuoco. In questo caso abbiamo solamente la sagoma di Harry con gli occhiali. In questo caso la proprietina è semplice da spiegare, abbiamo il calice di fuoco con il bigliettino col nome Harry Potter, che sta per essere o sputato fuori o bruciato dal calice, e appunto la sagoma di Harry. Successivamente Serena Riglietti ci ha raccontato che prima di consegnare la copertina del quinto libro ha avuto un momento di ribellione. Lei era incinta e ha consegnato la copertina, ha dato il pacco con la copertina al corriere dall'ospedale. Lei era andata in ospedale per partorire, ha portato con sé il pacco con la copertina finita e l'ha consegnata. E appunto l'ordine della Fenice per lei è una copertina molto molto importante perché lei appunto come la Fenice ha detto di essere rinata una volta messo al mondo suo figlio perché dice una donna quando mette al mondo un figlio diventa madre e quindi è come se rinascesse una seconda volta sotto forma di madre. E quindi per lei è molto importante e molto legata a questa copertina e appunto visto questo momento così importante nella sua vita ha voluto fare un atto di ribellione, ha consegnato la copertina al last minute proprio dall'ospedale ormai non si poteva più fare nessun cambiamento ovviamente e quindi in questo caso ecco che troviamo Harry di fronte. Vediamo finalmente Harry in faccia. Vediamo la cicatrice, vediamo il naso, vediamo la sua espressione anche se è leggermente coperta dal mantello e ci ha anche raccontato Serena Riglietti che ad esempio in questa copertina abbiamo sullo sfondo una citazione in latino che è tagliata, non è per esteso ma è come se una parte uscisse fuori dal libro quindi abbiamo questa citazione qui che continua da questa parte, inizia da questa parte e quindi è solamente un piccolo estratto con delle parole tagliate. Ebbene ci sono stati moltissimi hater che appunto le hanno scritto, le sono state fatte minacce di morte per questo motivo perché appunto le hanno detto che aveva sbagliato la frase, aveva rovinato le copertine di Harry Potter e ci ha raccontato che è stato davvero molto molto pesante e che quello è stato il suo primo approccio con gli haters nel mondo di Harry Potter anche perché il quinto volume è uscito negli anni 2000, adesso non ricordo esattamente quando ma credo 2002 e due, non ricordo, vediamo, 2003, prima addizione 2003, questa è una terza ristampa la mia e quindi 2003 e quindi già eravamo nell'era dei blog, dei forum e quindi era diventato tutto molto più social e più difficile da gestire e poi successivamente ecco che siamo arrivati a Harry Potter e il principe mezzosangue anche qui abbiamo una visione di Harry ormai frontale per così dire in questo caso ci furono altre polemiche perché Serena mise il suo nome qui sul bordo del pensatoio e commise un errore a detta di morti nella traslitterazione in runico e quindi anche in questo caso ci furono moltissime critiche in merito fin quando un esperto di rune invece disse che no, aveva ragione Serena Diglietti perché in non so quale alfabeto va utilizzata quella lettera per la G e la L anziché quell'altra e quindi poi le cose vennero messe un po' a tacere ma anche in questo caso dice che fu molto difficile gestire l'ondata di odio che ricevette per questa iscrizione qui sul bordo del pensatoio e poi per finire invece abbiamo Harry Potter e i doni della morte con questa bellissima copertina che nasconde una chicca intanto io ero convinto, vi dirò la verità, che qui nella copertina ci fossero Harry ed Hermione sotto il mantello dell'invisibilità al cimitero mentre invece Serena sostiene che nelle sue intenzioni si trattava di Harry e di Hagrid e cosa molto molto importante Serena ci ha sfidato a trovare un dettaglio che nessuno aveva notato che adesso cercherò di farvi vedere con un'immagine sovraimpressione qui nella parte alta, nello sfondo qui dietro, sotto tutta questa scrittura se trovo un'immagine pulita ve la metto troviamo un bambino, il profilo di un neonato con i genitori sullo sfondo che lo accudiscono quindi anche in questo caso ha inserito i genitori di Harry che lo proteggono col neonato tra le braccia, quindi è un po' un richiamo appunto all'inizio della saga, se così vogliamo dire e questo era un dettaglio che nessuno di noi aveva notato è che infatti quando è stato messo a tutto schermo ha lasciato tutti a bocca aperta perché davvero nessuno di noi ce l'aveva fatto caso quindi anche questa è una chicca molto molto bella e questa qui donna della morte è una prima stampa ovviamente questa l'acquistai all'epoca quando uscì al Day One e in questo caso Serena Riglietti mi ha fatto una piccola dedica ha scritto grazie Antonio per la tua passione Serena Riglietti e poi mi ha anche fatto un disegnino che lei ha commentato con disegno storto abbiamo qui questa testa di Harry questa piccola testa di Harry con questa descrizione disegno storto, molto simpatica e quindi io non smetterò mai di ringraziare Serena Riglietti anche perché ci siamo già rivisti una seconda volta abbiamo un po' di cose in ballo vogliamo fare alcuni progetti soprattutto con Alessio con Always Wands, Etna Comics abbiamo davvero tante cose che vorremmo fare insieme e quindi continuate a seguirmi anche su Instagram Antonio.seria perché probabilmente riusciremo a portare Serena anche in live con noi il giovedì un giovedì perché per chi non lo sapesse ogni giovedì alle 21 io Rudy di ThePotterBook85 e Graziano di Movra Collectboss ogni settimana, ogni giovedì alle 21 per un'ora andiamo in live su Instagram e portiamo un ospite sempre diverso e quindi più avanti Serena ci ha promesso che verrà ospite e farà una checchierata con noi e risponderà anche alle vostre domande quindi Serena non fa spesso queste cose e quindi sarebbe una bella occasione anche per tutti voi mi raccomando Antonio.seria trovate tutti i vari social miei di Graziano e di Rudy sotto nel infobox detto questo ragazzi io vi ringrazio per l'attenzione a me vi do appuntamento al prossimo video fatemi sapere tutto quello che pensate sotto nei commenti scrivetemi su Instagram sono sempre qui a disposizione per rispondere ai vostri dubbi e alle vostre domande e noi ci vediamo presto con tante altre novità ciao